Gentili telespettatori, ben trovati da Andrea Di Pre, questo è Di Pre per il sociale e oggi devo dire che sono qui con una persona straordinaria anche se versa in una condizione economica non proprio delle migliori, anzi direi quasi disastrosa, però sono qui proprio per cercare intanto di legittimarlo anche a livello della sua importanza storica che ha, ma anche per cercare di raccogliere alcuni dei suoi appelli. Gentili telespettatori, qui con me c'è Giuseppe Simone. Sì, io ti ringrazio Andrea che nonostante te sei immerso con tante porno star, donne praticamente... Opere d'arte mobili? Opere d'arte mobili, sì, insomma che tu hai la possibilità di toccare culi praticamente abbondanti, pieni e sostanziosi, io invece non ho la possibilità di toccare tutte queste donne. Ecco però Giuseppe io sono qui adesso con te, lo diciamo siamo a Foggia in questo momento. Siamo a Foggia, non siamo nel paese di Giuseppe ma siamo a Foggia, proprio perché voglio dire invece lanciamo un appello, giusto, perché tutte le femmine, giusto, all'ascolto possono chiamarti. Sì, possono chiamarmi, esatto, possono chiamarmi. Allora io voglio mostrare quanto sono maschio, esatto, guardate che mutante che c'ho, guardate, questo è il lato A, questo è il lato A e questo è il lato B, guardate, guardate, guardate come sodo, guardate, 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 queste sono le mutande, guardate, eh? Guardate, guardate il mio profilo, guardate. Possibile che io dico che non ci sia qualcuna che ne approfitti? Guardate, 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 questa tua iniziativa Giuseppe è lodevole perché mostri, riveli, giusto, riveli direttamente la carne di cui sei fatto, la sostanza di cui sei fatto. Esatto, esatto, esatto Andrea, esatto, esatto. Cioè io mi sono rotto i coglioni, mi sono rotto perché io vedo, sono un tuo fans Andrea e praticamente... Io so che la stiva è reciproca perché tu hai introdotto tanti concetti in Italia, però è anche giusto, io non sono qui a dire che dovresti essere ricco perché sai la ricchezza, però secondo me Giuseppe è giusto che l'opinione pubblica sia sensibilizzata sul fatto che stai cercando un'attività nel nord Italia. Esatto, io so, scusami se ti interrompo, non vorrei essere maleducato nei tuoi confronti, so che tu sei di una bellissima regione, bella, boschiva, dove si respira aria pulita e dove praticamente è la regione più ordinata a livello culturale, a livello vaginale, insomma è una regione dove l'ordine è sovrano, del Trentino Alto Adige. Facciamo un appello agli imprenditori trentini, baldostani, dove possono darmi un lavoro, possono almeno... non lo so. Questo è di prevedere sociale, Giuseppe qui devi dire tutto quello che vuoi, tu non hai problemi, però devi dire quello che vuoi, però torniamo un attimo sull'elemento... Dopo so che tu hai parlato dei prodotti da tua terra, hai portato. Esatto, perché io non voglio che l'avvocato di Pre se ne vada dalla mia regione senza che anche il cameraman lo assiste, che se ne vada dalla mia regione senza che lui assaggi i miei prodotti, è impensabile. Non lo sopporto questa idea, non lo sopporto, non lo sopporto, non lo sopporto. Allora vediamo che cosa hai portato qui per noi, a Di Pre e per il sociale, Giuseppe Simone. Allora, io, Andrea, ho portato il vino rosso, spero, bello corposo. Grazie, straordinario, gentilissimo. E poi ho portato l'olio, ho portato, lo metto qui? Certo, certo, facciamo una... Poi ho portato le friselle, ecco, magari... Queste si ammollano un po' in acqua, due minuti massimo. Te le mangi con Gianfranco, il cameraman. E' di grano, ecco, grazie. Sì, 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 sì. Poi ho portato, ho portato praticamente i capperi nostrani. Guardate, i capperi nostrani di Giuseppe Simone, guardate. Sì, poi... Beh, la tua terra è molto generosa, devo dire, la tua terra. Ho portato la carne da mettere sulle frise, quella che mangia il mio gatto. Ah, e questo come vai? Come, non ti piace la carne? Comunque, insomma... Questa è la carne del mio gatto. E questa va vista sulle frise, praticamente. Esatto, esatto, esatto. Allora, Giuseppe, chiudiamo questa piccola parentesi e ti ringrazio comunque, grazie dei tuoi doni. Anche se c'è qui, anche se c'è qui la forma del cane, però il mio gatto se la mangia. Giuseppe, grazie dei tuoi pacchi doni, però io voglio tornare sull'elemento più importante. Certo, scusami, scusami. Nella vita, che cos'è importante per te? Ma, nella vita, io, guarda, Andrea, l'ho ripetuto sempre, essere in pace con se stessi, essere in pace con se stessi. Però, purtroppo, questo traguardo a volte è molto difficile da arrivare, da raggiungere, ecco. E quindi, o si raggiunge, oppure alla fine, alla fine, praticamente, bisogna rassegnarsi. Bisogna rassegnarsi. E alla fine, se si rassegna, due sono le cose. O bisogna rassegnarsi a vita, oppure bisogna chiedere... Certo, però, allora... Bisogna chiedere aiuto ad altri. Ma, l'elemento femminile, che ruolo gioca nella tua concezione esistenziale? L'elemento femminile? L'elemento femminile, praticamente... Cioè, io, non gioco a niente, non gioco a niente, perché io da cinque anni che chiedo, datemi l'involucro vaginale e nessuno me lo dà. Per esempio, per esempio, io vedo sempre i tuoi video, no? Le sorelle Poliseno. Ma io le sorelle Poliseno, porca miseria, te lo do io l'uccello, te lo do io l'uccello non identificato, hai capito? Come ti chiami, Patrizia? Te lo do io l'uccello non identificato, mamma mia. Ma la Paola è vecchia, la Paola è vecchia, avvocato, la Paola è vecchia, te lo do io l'uccello non identificato. No, 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 un attimo, un attimo, allora... Qui, qui devi toccare, qui devi toccare, Patrizia, qui c'è la sostanza per la tua bocca, qui c'è la sostanza per la tua bocca. Avvocato, mi lasci, mi lasci, so io i nervi che ho in testa. E poi, facciamo vedere, facciamo vedere alle sorelle Poliseno, facciamo vedere alle sorelle Poliseno. Guardi, guardi le mutande che indossa Giuseppe Simone per le feste di Orge, guardi, guardi, guardi. Le piacciono, avvocato? Tocchi, tocchi, guardi, guardi, guardi. Sono arrabbiato, avvocato. Andrea, scusami. Io dico solo questo, intanto ti sei arrivata una persona generosa, fai bene a dire subito che cos'è il basico istinto per la seduzione, fai bene a dire le cose che pensi. Ovviamente hai citato le sorelle Poliseno che sono due grandi studiose di civiltà aliene e quindi che hanno avuto anche esperienze sessuali con gli alieni e tu ti sei proposto per un'esperienza sessuale direttamente. Quindi, poi, chi ha altre delle opere d'arte mobili che ho presentato ti ha... La ringrazio, la ringrazio, avvocato, la ringrazio di avermi citato... È una Veneta, mi sembra, che ti... Sì, 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 adesso ricordo. Adesso, ma no, la Lea di Leo. La Lea di Leo. Io vorrei dire questo, vorrei dire questo, no? A queste attrici che lavorano nel mondo del cinema, come si chiama, a luci rossi, voglio dire solo questo. Cioè, a me non me la danno, a me non me la danno. All'avvocato sicuramente gliela avranno data. Ma cosa ne pensano i loro rispettivi genitori che fanno le zoccole? Cosa ne pensano? Io vorrei sapere cosa pensano i loro genitori che fanno le zoccole. Se si coltiamo pure e stiamo andati da qui, la gente rompe... Cosa pensano? Cosa pensano? Cioè, io... No, 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 io vorrei... Cioè, avvocato, avvocato, Andrea, scusami. Io vorrei sapere, vorrei sapere, quando lei incontra una porno star, deve dire questo. Mi ha detto Simone Giuseppe, mi ha detto Simone Giuseppe, cosa pensa il tuo papà che sei una zoccole? Me lo promette? Me lo promette? Me lo promette? Ma ascolta, allora, anche una che fa la porno star è un'artista, è un'opera, è un'artista, o no? Senta, lei ha sorelle. No, ma Giuseppe, ascoltami. Allora, niente, io direi di far così. Chiudiamo qui questo primo nostro incontro. Ne faremo altri più avanti. Sì. Ecco, io ti ringrazio ancora per i pacchi d'ono, stupendi. Sì. E sono sicuro che comunque l'appello che hai fatto anche per il lavoro dal nord ti porterà a riscontro. Va bene, avvocato. Io però non condivido la cosa, non condivido la cosa. Cioè, io voglio sapere, dalle porno star, dalle porno star... Ma continuate... Dalle porno star che lei ha l'occasione di vedere, cosa pensano i loro rispettivi papà che questi fanno le zoccole? E io non lo so. Vabbè, questo, insomma... Ma è successo? Comunque, insomma, ne riparleremo, va bene? Io intanto vi saluto, qua non ne sono... Da Foggia, grande incontro, ha fatto molto piacere. Complimenti Giuseppe Simone e Andrea Di Pre, vi saluta. E seguiteci perché è giusto approfondire altri momenti con questa grande personalità di Lecce. Giuseppe Simone ed Andrea Di Pre, un caro saluto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.